La si può considerare una risposta alle catombe degli ultimi anni, raccontata dai numeri di concessionari d'auto sul territorio italiano. In Ciocioria dunque si prova ad invertire la rotta e proprio da Frosinone parte la sfida, quella proposta dal gruppo Top Car. Una risposta importante in un momento particolare che stiamo attraversando a livello nazionale. Noi ci crediamo molto, questa apertura arriva a un anno dall'apertura di Sora che ci ha dato tante soddisfazioni. E' un modo anche di farci conoscere in provincia, è una sfida che vogliamo fare e che cercheremo di portare a termine come sempre con tutta la nostra passione e tutta la nostra serietà. Uno degli elementi cardine di un concessionario d'auto è quello relativo al rapporto con la clientela ed ecco allora che si ribadisce il concetto di fidelizzazione con il pubblico. E' importante la fidelizzazione con la clientela, il cliente deve sentirsi sicuro quando viene da noi e acquista un'auto. Noi garantiamo in prima persona e anche con tutte le garanzie del caso ogni vettura sia nuova che usata. La concessionaria Top Car di Frosinone che si trova sulla Montilepini ha deciso di puntare su una varietà di marchi d'auto. Siamo un po' di marchi, abbiamo la nostra vicinanza diciamo un po' che in tutti i produttori delle auto sia nazionali che esteri e siamo in grado quindi di offrire delle auto a prezzi particolari sicuramente vantaggiosi per tutti i clienti.